Lo stadio ha solo due piccole costruzioni, la sinistra è l'altare della sensibilità che è a me e a destra della casa dove stava la cia per seguire le costruzioni e i suoi che vengono a me e a destra della casa dove stava la cia per seguire le costruzioni. La cia per seguire le costruzioni, la cia per seguire le costruzioni, la cia per seguire le costruzioni La cia per seguire le costruzioni, la cia per seguire le costruzioni, la cia per seguire le costruzioni